ok allora riprendendo da dove c'erano lasciati abbiamo scoperto un indicatore di nuovo di interesse per l'organizzatore dell'hackathon sempre sul processo di iscrizione e quindi proviamo il metodo abbiamo già applicato un certo numero di volte quindi riusciamo anche andare un pochino più velocemente a trovare un modo per valutare questa questo indicatore questo indicatore in realtà mi chiede due cose per come l'abbiamo scritto che le dimensioni dei team siano simili tra di loro allora questo mi fa venire in mente misuriamo la varianza e cerchiamo e chiediamo che la varianza o lo scarto quadratico medio sia più basso possibile oppure però nello stesso tempo mi chiede che le queste dimensioni uniformi non siano tutte da due ma siano vicine possibilmente al massimo quindi sono due richieste diverse che noi dobbiamo in qualche modo riuscire a riassumere in un numero quello che potremmo fare io sto cercando di interpretare quella frase che ho scritto come se non avessi scritta io qualcuno mi dice questo l'obiettivo dell'organizzatore e cerchiamo di leggere tra le righe capire un po come possiamo dirgli se questo processo si avvicinano a questo obiettivo o di quanto si sta avvicinando dimensioni possibilmente vicino al massimo allora se sono tutte vicino al massimo sono anche uniformi tra di loro se il massimo è 10 se la dimensione massima del team fosse 10 e le dimensioni dei team effettive fossero tutte maggiore di 8 beh soddisfa entrambe le richieste perché sono tutte vicino al massimo tra 8 e 10 e sono tutte anche vicine tra di loro cioè lo scarto della dimensione di un team e dell'altro è solamente di due unità quindi quello che potremmo fare allora quello che mi viene in mente di fare per cercare di avere un indicatore che tenga conto alla fine di entrambi gli aspetti è di definire una fascia nell'intorno del massimo entro le quali vorremmo che le dimensioni dei team ricadesse cioè posso dire io vorrei che tutti i team avessero una dimensione che è tra l'80 e il 100 per cento del massimo o tra 70 e il 100 per cento poi possiamo deciderla empiricamente questa soglia e quindi avrò a team formati una certa percentuale di team che ricade in questa fascia e quelli vanno bene non mi preoccupano avrò una certa percentuale di team che invece sono più piccoli e quindi essendo più piccoli in qualche modo due cose sono più lontani dal massimo e sono più di dimensioni più diverse rispetto agli altri e quindi sono quelli che mi danno fastidio e quindi andrò a contare quanti di questi mi danno fastidio quanti sono i gruppi sparsi i gruppi troppo piccoli quindi in qualche modo ciò che mi dà fastidio sono i gruppi piccoli troppo piccoli rispetto alla dimensione massima che ho definito e che in qualche modo mi da un'aspettativa sulla dimensione reale è chiaro che se io metto il massimo 10 non mi aspetto di avere tutti i gruppi da 10 però probabilmente mi aspetterò gruppi da 7 8 9 10 se mi aspettassi gruppi tutti intorno ai 4 5 persone magari metterò il massimo 6 perché alla fine è un'indicazione che che serve da un lato a guidare il processo di iscrizione ma dall'altro anche dare un'idea ai partecipanti di quelle che sono le aspettative dell'organizzatore quindi la nostra strategia la procedura di calcolo potrebbe essere valutare quanti gruppi quanti team si chiamano formati hanno dimensione inferiore al 70 80 mettiamo 75 tanto per mettere un valore al momento del massimo se questo indicatore vale 0 vuol dire che tutti i team hanno una dimensione tra 0 75 e 1 rispetto al massimo volte il massimo quindi sono tutti vicini al massimo al massimo hanno una differenza del 25 per cento rispetto al massimo in meno e saranno tutti abbastanza vicini tra di loro quindi sono i team formati solamente quelli che effettivamente abbiamo alla fine del processo da qui escludiamo tutti i partecipanti che non sono riusciti a formare un team questo ormai non ci interessa allora questa cosa qui come la calcoliamo? beh direi che a parole intuitivamente è abbastanza facile da capire che cos'è andiamo a vedere dove sono i dati beh i dati ce l'ho qua nel senso che un team ha dei componenti e ogni team ha un certo numero di componenti che sono i partecipanti che partecipano a questa relazione qui c'era stiamo andando indietro nei mesi ma a differenza della partecipazione partecipante era che lo stesso partecipante potrebbe iscriversi a più hackathon diversi quindi aveva domande di partecipazione diverse e qui noi siamo relativi a un solo hackathon quindi per il nostro hackathon andiamo a contare dati di team quanti partecipanti ci sono per ciascun team e ogni team quindi avrà un numero a ogni team associamo il numero che è la dimensione del team a noi non interessa fare la media di queste dimensioni la dimensione della media di team non mi interessa in realtà la dimensione della media del team se mi servisse farei il numero di partecipanti e diviso il numero di team finito mi dà la dimensione della media di team però la media non mi dice come sono distribuiti io quindi qui o qua invece ragiono su un percentile del massimo e allora sicuramente devo contare la dimensione del team quindi conta che cosa? per ogni team punto componenti per ogni team conta per ogni team il numero di componenti di quel team lì quindi ogni team mi dà un valore questi numeri qui di questi numeri qui vado a vedere quanti sono minori di 0,7 volte il massimo quindi come possiamo fare? facciamo due passaggi diciamo che così la dimensione del team è uguale al count per quel team dei componenti e l'indicatore il mio indicatore è quanti di questi team hanno la dimensione inferiore a quindi quindi conta quante volte la dimensione del team è minore di 0,75 volte dim team che è un attributo di hackathon detto qui per poterlo scrivere in modo perfetto dovremmo scrivere delle equazioni o scrivere del codice in qualche linguaggio di programmazione che faccia quel calcolo qui stiamo cercando di suggerire il metodo di calcolo quindi per ogni team faccio il conteggio dei suoi componenti questa la chiamo dimensione del team dopodiché di questa dimensione del team vado a contare quante sono minori dello 0,75 questo è il mio indicatore questo indicatore però da solo non mi piace ancora perché è ancora un valore assoluto che dipende allora io dico quanti sono i team di dimensione minore di 0,75? 7 7 su 10 o 7 su 90 quindi è sempre meglio raffrontarlo ad esempio il numero totale di team quindi questo conteggio lo rapporto al numero di team totali il quale numero di team ovviamente torna solo su di due pagine è un KPI generale adesso non ci mettiamo a compilare tutto ma è numero di team questo è un KPI di output perché è la fine alla fine del progetto di iscrizione ho i team non è un KPI di ingresso quindi questo numero di team è un KPI che devo calcolare a parte è banalissimo da calcolare e è la base rispetto al quale il denominatore rispetto al quale vado a misurare il numero di team che sono troppo piccoli quindi io sto partendo da qualche cosa che ha due dimensioni cioè il team e il partecipante ho tanti team ciascun team ha tanti partecipanti faccio un primo livello di aggregazione in cui conto i partecipanti di ciascun team e quindi ho solo più qualche cosa che dipende dal team e faccio un secondo livello di aggregazione un conteggio che dipende solo più dal a questo punto è un numero solo perché ho fatto il conteggio di un sottoinsieme di qual è il sottoinsieme di questi elementi che hanno una certa proprietà cioè essere minore di 0,75 e quindi alla fine ho un numero solo per ciascun hackathon ovviamente allora questo qui lo possiamo chiamare team piccoli e quindi team piccoli è uguale a questa formula qua se vogliamo possiamo mettere la parentesi per ricordarci che questo dipende dal team come unità di misura questa cosa cos'è? beh è un numero fratto un numero è dello stesso tipo dell'altro cioè la frazione di quanti team sono piccoli rispetto al totale quant'è l'incidenza dei team piccoli sul team totale quindi anche qua possiamo esprimere in percentuale scala dei rapporti può essere ottimo se è minore questo è un numero che più è piccolo meglio è quindi lo considero ottimo se è minore del 10% magari è accettabile se è minore del 20% sto mettendo i numeri così un po' a senso la fonte di questo dato è ovviamente il Clark diagram abbiamo già tutto l'informazione che ci serve nella classe team e le sue relazioni che possiamo interrogare semplicemente quando il processo di iscrizione è finito quando la scadenza delle iscrizioni in che categoria nella casella che ci è rimasta vuota ricade questo indicatore beh questo è un indicatore di qualità perché siamo andati a vedere le caratteristiche dell'output e una delle caratteristiche dell'output è avere una dimensione il più possibile conforme alla dimensione che si aspettava quindi non stiamo dicendo se i team sono stati facili da creare difficili lenti lunghi macchinosi siamo semplicemente andati a guardare l'esito finale ok processo gira quando hai finito di girare fammi vedere che team hai informato guardo i team e dico guarda questi tra qua non mi piacciono tanto ma l'ho potuto dire solamente guardando il team le caratteristiche del team quindi solamente le caratteristiche dell'output quindi è un indicatore di conformità qualità conformity è come se avessi definito un team che è un output è conforme se la sua dimensione è compresa tra 0.7 max 0.75 max e max ho dato una misura e una fascia di tolleranza intorno a quella misura e quindi qui ho contato quali sono quanti sono qual è l'incidenza quindi quanti sono percentualmente i team non conformi rispetto a questa conformità che mi sono definito è stato facile crearli? non lo so hanno dovuto fare mille richieste? non lo so questo è ciò che distingue i KPI di servizio o di efficienza in cui vado a vedere cosa succede dei KPI di qualità guardo solo l'output guardo il il diagramma delle classi dopo che tutto è finito vado a vedere i dati che rappresentano l'output la fine dell'elaborazione ok io non cercherei di spremere oltre questo esempio ma se volete quello che vi proporrei di fare spendere ancora una mezz'oretta o giù di lì magari sul laboratorio di ieri se avete magari l'esercizio 1 o l'esercizio 2 che vi fa piacere riprendere qualche punto avete dei dubbi magari facciamo insieme qualche KPI relativo a questo laboratorio visto che comunque ci avete già pensato avete già magari prodotto qualcosa quindi lascerei chiederei a voi se se preferite vedere magari l'esercizio 1 o l'esercizio 2 e quali aspetti di questi quindi se qualcuno ha delle domande o dei suggerimenti se no come sempre faccio io quello che mi piace di più il testo dell'esercizio 1 era molto generale qua sotto qua dice ah c'è questo processo fammi KPI in realtà da lì puoi decidere qual è lo stakeholder e di questa descrizione quale perché dice i processi definiti voi i processi ne avevamo tanti ah scelgo un processo per quel processo scelgo lo stakeholder per quello stakeholder ragiono su quali sono gli obiettivi se mi metto a farlo tappeto non mi passa più come tempo proprio e poi ottengo risultati che in buona parte non sono utili quindi il testo qua era scritto in modo molto se vogliamo provocativo nell'esame la domanda è molto più precisa si definiscono i tre KPI più rilevanti mettiamo sempre tre più rilevanti per il processo e diciamo quale processo dal punto di vista di e mettiamo uno stakeholder quindi lì è già chiaro che cosa stiamo chiedendo non mi chiediamo di brancolare troppo nel buio allora facciamo i tirocini e facciamo gli sci il primo quanti vogliono il primo? nessuno quanti vogliono il secondo? è una leggera maggioranza per il secondo dai facciamo il secondo no perché lo preferisco anch'io perché dentro ci sono dei costi effettivi non abbiamo mai fatti in questione dei costi dei prezzi eccetera e l'uno è di nuovo un processo di nuovo puramente amministrativo però non facciamo tutte le varianti ovviamente possiamo fare la variante 1 che è la più semplice allora la variante 1 è quella in cui noleggio delle attenzioni sportive il cliente si rega al negozio e si presenta al reparto noleggio attende il proprio turno quando ha detto si libera il cliente viene servito vabbè fa le prove quindi l'addetto segna su un registro cartaceo il nome estremi documenti identitari l'elenco di materiale affittato inoltre l'addetto consegna al cliente un foglio con la cifra da pagare infine il cliente si rega alla cassa del negozio e paga la restituzione del materiale viene finito in stagione spesso con molto ritardo allora il primo punto è difficoltoso non tanto in astratto sulla definizione dei KPI ma sulla definizione di quali KPI potrebbero essere gestite in un sistema informativo perché qua il sistema informativo non fa niente cioè volendo c'è la cassa gli unici dati che abbiamo informatizzati sono i pagamenti il resto sono foglie di carta che vanno e vengono allora qui di nuovo torniamo all'impostazione che abbiamo in questo corso noi non interessa tutto interessa solamente ciò che il sistema informativo riesce a vedere allora io qua potrei chiedermi quali sono le cose importanti in questo processo per il cliente per l'addetto per il cassiere per il proprietario del negozio che sono i vari stakeholder però poi non so come misurarli perché non ho un sistema informativo che mi gestisca il livello operativo da cui poter restare i dati per cui possiamo definire tutti i KPI che vogliamo ma nell'ultima riga dove c'è scritto la fonte non sapremo cosa scrivere tanto voglio prendere quell'informazione glielo chiedo a voce vado a spulciarmi i fogli di carta sì si può si può però non è molto cost effective non è molto efficace come metodo quindi in questo caso tutti gli indicatori relativi proprio al processo di noleggio richiederebbero che almeno parte o buona parte di quel processo fosse gestito dal sistema informativo e questo è un esempio noi ce la siamo cavata così su questo punto poi è un esempio di ciò che succede quando uno vuole fare controllo di processo e non conosce il processo cioè sì lo conosce ed è scritto qua ma non conosce nel dettaglio il processo come viene svolto dal punto di vista quantitativo quante cose vengono fatte in quanto tempo e allora non puoi controllare un bel niente vedi gli input vedi gli output va bene se va bene qui gli input non li vedi neanche perché non sappiamo neanche quanti clienti sono entrati e comunque per avere qualunque informazione hai un costo di estrazione del dato raccolgo i fogli a fine serata quindi magari a metà alla fine del giorno dopo ho i dati che poi devono ancora essere elaborati non riesco a gestire questo processo se invece solo se avrò qualche sistema informativo che è agganciato a livello operativo potrò pensare effettivamente di passare a livello manageriale altrimenti sto facendo finta quindi vediamo il livello 2 vediamo se riusciamo al punto 2 la versione 2 vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio anche qua la versione 2 non è ancora completamente gestita dal sistema informativo quindi magari ci saranno delle idee degli obiettivi degli indicatori che ci piacerebbe avere ma poi dobbiamo fare i conti con ciò che invece riusciamo a conoscere qui siamo quasi all'inverso rispetto a quanto succedeva con l'hackathon dove tutto il processo era totalmente gestito dal sistema non c'era quasi nessun intervento umano il sistema sapeva tutto e allora mi dovevo solo sbizzarrire io su quali dati estrarre qui invece i dati sono parziali allora che dati abbiamo qua qui abbiamo il fatto che l'ha detto c'è un'applicazione che permette la registrazione del cliente nome e estremi documenti di identità ce ne frega fino a un certo punto ma il materiale affittato invece ci interessa quindi so anche quanti clienti ho e che cosa affittano e l'inserimento anche il numero di telefono e indirizzo di mail direi che non ci interessano documento di identità numero di telefono e indirizzo di mail sarebbero tutte misure nominali come tali sono difficili poi da usare aggregar racconto quante mail diverse ho in questo caso nessun foglietto ne ha dato il cliente ma il sistema invia alla classe direttamente le informazioni per il pagamento dopo il pagamento il sistema invia un mail direttamente quindi ho a differenza di prima tutte le informazioni sui clienti che hanno almeno ordinato qualcosa non tutti i clienti che entrano al negozio quelli che hanno ordinato di quelli che hanno ordinato conosco loro e conosco il loro acquisto poi dopo il pagamento vabbè poi la parte del pagamento che avrei già avuto anche prima il sistema invia un'imera di ripido con il materiale affittato ricorda che la restituzione deve venire tutto il primo maggio questo vabbè il sistema che manda una mail la restituzione del materiale viene segnata sull'applicazione qui parte l'italiano che è un po' vuol dire che quando l'utente restituirà il materiale effettivamente un operatore che qui non è scritto chi è sarà probabilmente l'addetto indica all'applicazione che quel materiale è stato restituito e beh in ogni caso c'è un avviso che viene mandato eccetera sollecitato allora noi non possiamo parlare di KPI di tutto questo perché questo comprende processi diversi comprende il processo di acquisto il processo di pagamento possiamo vederlo dentro o fuori dipende come lo facciamo e poi sicuramente il processo di riconsegna che è separato ok quindi come prima cosa dobbiamo elenchiamo quali sono o evidenziamo quali sono i processi adesso in questo caso il testo è lo stesso del laboratorio numero qual era 8 se no avevamo scritto no vabbè abbiamo già una soluzione in cui potremmo andare a prendere i KPI cioè i processi però come minimo abbiamo un processo quindi laboratorio 11 esercizio 2 traccia quindi per la versione 2 processo semi o semi gestito non automatico automatico non c'è nulla perché fa tutto l'addetto però quindi la versione 2 i processi sono acquisto e sicuramente c'è un processo che la riconsegna il processo dell'acquisto va da quando il cliente sa che cosa vuole quindi tutta la fase in cui il cliente prova gli scarponi decide che cosa vuole eccetera è fuori del processo perché noi nel sistema informativo vediamo solamente l'ordine quindi dal inserimento dell'ordine al pagamento dello stesso è un processo in cui il token sarà il cliente che acquista qualcosa un cliente che fa un acquisto di un pacchetto mentre la riconsegna è semplicemente i vari solleciti registrazione della consegna e basta c'è il sistema informativo che avvisa guarda che devi consegnare eccetera e a un certo punto finalmente questo signore riconsegna e per ciascuno per ciascun processo chi sono gli stakeholder sul primo processo gli stakeholder sono sicuramente l'addetto il cliente teniamo presente che il cliente non tocca mai il sistema informativo e poi potrebbe essere eventualmente proprietario del negozio nel caso in cui non sia lo stesso addetto e nel caso di consegna direi che sono forse gli stessi forse meno l'addetto perché l'addetto col punto è più proprietario del negozio che ha la roba fuori che vorrebbe ritornarsi l'addetto fatico vedere come sta il coder e allora alla fine deve solamente fare un clic direi ordine 37 riconsegnato mentre il cliente ovviamente c'è tutto il processo di sollecito avviso comunicazione che a tutto interesse che avvenga bene perché così non gli vengono applicate le penali oppure quindi abbiamo tre stakeholder per il primo processo due stakeholder per il secondo processo a quel punto qui dentro chiediamoci quali sono i KPI possibili in questi cinque casi possibili ovviamente non facciamo cinque casi in venti minuti allora qui abbiamo il negozio ora detto come stakeholder quindi ci rarrebbe forse voglia di abbiamo un sistema in cui il cliente paga dei prodotti di agganciare qualche KPI che abbia a che vedere con la redditività di questa operazione l'incasso quanto vendo ecco dobbiamo fare attenzione se vogliamo se ci vengono in mente KPI di questo genere chiedici sempre ma sono KPI controllati da questo processo o da altro cioè la bontà di questo processo ad esempio di acquisto influenza le vendite dipende dipende che cosa intendiamo i volumi di vendita forse no o forse sì se in realtà ci sono pochi addetti e quindi i clienti aspettano troppo e se ne vanno però visto che ciò che voglio comprare lo definisco prima con l'addetto e poi una volta che l'ho deciso l'addetto carica l'ordine nel sistema in realtà tutta la parte decisionale avviene prima prima di questo processo il processo qua parte quando ormai ho deciso cosa comprare quindi se perdo il cliente lo perdo prima non è migliorando il caricamento dell'ordine che recupero un cliente che avrei perso a me verrebbe da dire questo allora se è vero che questo processo inizia quando il cliente ha già deciso cosa comprare qui di fatto è un dato di input il processo non avrà effetto sulla redditività sulla redditività sì scusatemi sui incassi sui ricavi potrà avere impatto più in generale sulla redditività sì perché ma perché l'addetto fa più in fretta il proprio lavoro e quindi può servire degli altri clienti quindi indirettamente ciò che faccio cosa sto facendo sto ottimizzando l'uso delle risorse in questo caso le risorse umane addetto perché ogni minuto che l'addetto risparmia rispetto a gestire i foglietti di carta o comunicarli con la cassa è un minuto in più che può dedicare a un nuovo cliente ammesso di averlo il cliente lì che aspetta però sicuramente è libero delle risorse per qualche cosa che ha più valore aggiunto cioè servire un cliente allora io poi non posso andare a misurare come chi è il piede di questo processo gli incassi perché non dipendono da me ma posso andare a misurare sicuramente il tempo impiegato dall'addetto e più è basso questo più so che potrò avere una ricaduta positiva sul servizio sui clienti e quindi sulle vendite potrebbe è poco è poco ciò che posso misurare da qua perché ho un piccolo processo e su quello posso misurare solo alcune cose mi devo contentare di ciò che posso misurare che abbia impatto quindi i possibili facciamo così per lo stakeholder negozio ad esempio un possibile KPI scrivo solo il goal impossibile che KPI può essere il tempo speso dall'addetto nel gestire l'ordine di un cliente o gestire l'ordine dall'inserimento al pagamento sempre solamente quello che ricade in questo processo qui non la parte precedente in cui prova gli scarponi questo fa sì che l'addetto debba essere il più facilitato possibile per ridurre questo tempo perché a quel punto ormai la roba è venduta hai deciso che compri questo caro cliente prima ti togli dei piedi prima io libero il negozio e libero le risorse il personale per poter servire al prossimo cliente quindi quello tutto tempo quel tempo lì è un costo non sto più vendendo ho già venduto devo perfezionare l'acquisto perché la devo incassare quindi questo è sicuramente un KPI che posso misurare inteso come tempo tra l'inizio e la fine di questo processo adesso bisogna bisognerebbe vedere perché il testo non mi pare che lo dica il sistema invia alla cassa direttamente le informazioni allora qui abbiamo un cassiere separato dall'addetto dedicato alla cassa oppure abbiamo più addetti i quali si diciamo così turnano anche alla cassa perché qui cambiano ovviamente le cose se la cassa è automatica non dice che la cassa sia automatica vediamo la versione precedente in cui dice l'addetto consegna al cliente un foglio si reca la cassa del negozio e paga allora io leggendo tra le righe mi viene da pensare che ci sia un cassiere dedicato alla cassa ok quindi in realtà il tempo speso dall'addetto è solamente il tempo di inserimento dell'ordine poi un tempo di attesa alla cassa e di pagamento in cassa che sono separati cioè da vedere separati se poi la cassa fosse automatica e quei tempi ci sono lo stesso ma non ho la risorsa umana che gestisce la cassa lo vedrei pericoloso dare in mano Sciscarpone a un tizio e poi dire tu passi dalla cassa e lui invece esce per il tipo di casino che c'è di solito in quei tipi di negozi lo vedo pericoloso quindi nel nostro caso avremo avremo il tempo speso dell'addetto nel gestire dell'ordine di un cliente dell'inserimento dell'ordine di un cliente solamente quindi perché l'addetto fa solo quello diverso invece è il momento cassa quindi fa parte dello stesso processo ma del processo qua la parte gestita dell'addetto che è la persona che vogliamo liberare per poter servire un cliente nuovo non ci interessa la parte di pagamento perché stiamo radionando nel caso in cui l'addetto alla cassa sia diverso c'è una persona che fa solo quello che abbiamo volo diverso no questo tra l'altro ci dà anche lo spunto per dire che l'analisi dei KPI quindi il fatto che un indicatore vada bene vada male può avere impasto sia sul processo ma anche sull'organizzazione cioè è meglio avere addetti e cassieri separati o avere un pool di persone che seguono il cliente e poi lo passano in casa vieni con me in cassa dipende ovviamente dal tipo di attività se presumo che la cassa ci sia della coda da fare non ha senso che l'addetto si faccia la coda insieme al cliente sicuramente quindi è meglio avere nella maggior parte di casa degli addetti separati dei ruoli separati però questo lo posso misurare se sia meglio in un modo o nell'altro mentre dal punto di vista del cliente qui questo è il proprietario del negozio dal punto di vista del cliente invece è un tempo che è molto più lungo se andiamo a vedere l'efficienza quanto tempo spendo si dal punto di vista del cliente magari c'è il prezzo di vendita come indicatore importante ma non dipende da questo processo quindi non lo guardiamo costa più costa meno ha un assortimento di più ampio più stretto ma non dipende da questo quindi tutte le cose interessanti qua non le vediamo ciò che rimane è il tempo di nuovo che però a questo punto non possiamo più dal punto di vista del cliente limitare il tempo speso per l'addetto ma ho tre tempi vabbè sicuramente tutto il tempo precedente fuori dal sistema informativo prima di questo processo e qui non lo misuriamo poi il tempo in cui l'addetto dice va bene queste sono le sue cose aspetti un attimo che lo inserisco mi dia i dati mi dia la carta d'identità eccetera e questo è un primo tempo il secondo tempo è quello in cui lui fa la coda alla cassa e il terzo tempo in cui effettivamente esegue il pagamento alla cassa questi sono questi tre tempi la somma dei tre è il tempo di servizio per l'utente per il cliente complessivo alla fine è il tempo che lui perde da quando ha deciso cosa acquistare a quando se ne esce con i beni in strada quindi io indicherai sicuramente come che API il primo il prioritario che mi viene in mente avendo appunto già deciso cosa compro avendo già fissato il prezzo a questo punto il tempo di servizio quindi il tempo da l'inizio dell'inserimento dell'ordine o addirittura da l'inserimento dei dati del cliente perché la prima volta devi dargli anche tutti i dati alla conclusione del pagamento quindi sono due misure di tempo ma sono di categorie diverse dal punto di essere cliente è un tempo di servizio e copre tutto il processo quello dal punto di vista del negozio copre solamente un pezzo del processo che è quello dove riteniamo che possiamo avere una criticità di personale ecco non abbiamo scritto a che categoria appartiene stiamo facendo in modo sintetico per riuscire a ragionare e confrontare su vari KPI senza farli tutti in modo dettagliato poi possiamo farli con calma a parte come esercizio questo qui come lo classifichiamo non è sicuramente un tempo di servizio è un costo unitario è un KPI di efficienza questo mi dice quanto tempo misura il costo in termini di tempo e speso dell'addetto per ogni cliente un cliente senza farlo apposta abbiamo già scritto per un cliente quindi unitario rispetto all'unità di ordine quindi questo ricade nella efficiency unit cost o cost per unit chiamatelo come volete dove il costo è le ore il tempo dedicato dall'addetto e l'unità è l'ordine fatto quindi è sempre misura di tempo ma la interpretiamo in modo completamente diverso questo stesso KPI di tempo speso dell'addetto vale anche per l'addetto stesso identico perché interessa l'addetto non avere a che fare con un sistema troppo macchinoso troppo lento che gli faccia perdere troppo tempo interessa ovviamente al responsabile del negozio che l'addetto si liberi prima possibile in quarto processo costo unitario produttività abbiamo capito che sono praticamente uno l'inverso dell'altro quindi avremmo potuto misurare anche la produttività in termini di ordini inseriti per ora di lavoro o per turno o per giornata o per addetto che essenzialmente con un cambio di unità di misura non è altro che il reciproco del costo unitario l'utilizzazione potrebbe essere interessante cioè sapere per quanto tempo che risorse ho qua risorse umane gli addetti per quanto tempo l'addetto sta lavorando oppure è in attesa però non ho questi dati perché non so una volta che so quando l'addetto sta inserendo dei dati perché il sistema informativo vede qualcuno che interagisce e sa anche chi ma non sa nel resto del tempo in cui lui non sta interagendo con il sistema informativo se sta servendo un cliente oppure se non ha nessuno a servire altrimenti questo dato sicuramente sarebbe importante ma questo sistema non ce lo dà ecco gli altri KPI che potremmo definire potrebbero essere quelli di qualità qualità qual è? qui alla fine del processo che cosa ho? o dei beni pagati allora è anche difficile definire qua io sto cercando di definire un KPI di conformità dell'output cioè lo scontinuo che mi hai fatto corrisponde ai beni che ho preso che è più di perfect orders che non di qualità in realtà cioè che io mi accorgo all'uscita che ciò che ho preso non andava bene perché magari è stato caricato il prodotto sbagliato c'è stato un errore nella fase di caricamento dell'ordine allora magari ho misurato uno scarpone e me ne ha dato uno sbagliato o me ne ha dati due diversi un 45 e un 44 per cui il cliente in qualche modo ha tra le mani un prodotto un output che non lo soddisfa perché non è ciò che aveva chiesto e quindi in qualche modo deve tornare nel negozio allora questo è un altro KPI che sarebbe interessante misurare quanti sono non dico i reclami ma i disguidi che ho in fase poi di pagamento o di consegna della merce però anche qua dovrei tenere traccia di quanti utenti tornano dei ritorni di merce questo processo non li ho questi però sarebbero più facili da ottenere da tracciare perché basta estendere un processo un pochino per cui aggiungere un processo che è gestione rientro merce o ritorno merce per cui se qualcuno non va lui ritorna gli faccio un buono poi lui si ricompra quello che gli serve o gli sostituisco semplicemente tenendo traccia se è quell'ordine perché quando lui torna con della merce dicendo questo scarpone non funziona sia è rotto o cosa so che cosa ha ordinato quindi uno potrebbe pensare se stessimo facendo il progetto completo quindi compresi anche i processi potrei aggiungere dal punto di vista del cliente un altro KPI che è di tipo qualità conformità che è essenzialmente il numero di ordini di consegne contenenti prodotti difettosi per farlo però occorre aggiungere un processo che registri il ritorno di una merce già affittata con questi processi da solo non si può ma è un'aggiunta talmente minima che però mi potrebbe permettere di questo ce ne accorgiamo normalmente cioè quando penso come prima quando aggiungiamo il punto A B C D aggiungiamo magari un attributo nelle classi perché ci serviva perché a loro un KPI è abbastanza normale dover potenziare un pochino i processi o i modelli concettuali che avevamo per poter avere informazioni in più che mi permette di restare i KPI di interesse questo KPI qui è un KPI per il cliente e anche per il negozio direi quindi lo metterei sia come cliente che come negozio voi su questo processo avete avevate trovato degli altri KPI ne avevate pensati altri più 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 rilevanti di questi la difficoltà di questo esercizio secondo me era riuscire a non mettere le cose che non si potevano misurare e non centrarle con questo processo al di là di questo direi che il calcolo di questi signori è abbastanza facile perché c'è stato solamente di conteggio degli intervalli di tempo quindi non vedo nulla che che ci possa suggerire facciamolo per imparare qualcosa di più allora se non avete domande curiosità o dubbi io vi ho promesso di finire prima avendo accorciato l'intervallo mantengo la mia promessa ci rivediamo ancora per due settimane a gennaio avremo ancora due laboratori uno sui KPI e l'altro su un tema di esame quindi generico e in aula faremo essenzialmente i temi di esame partendo da quelli più recenti quindi quelli dell'ultimo anno accademico vediamo quanti riusciamo a fare andiamo indietro stiamo anche cercando di organizzare se non sbaglio per il 18 un giorno di quel genere una testimonianza aziendale di qualcuno di un'azienda che venga a raccontarci loro queste cose che facciamo fare a voi nel mondo reale come le fanno se le fanno se ci stiamo inventando tutto oppure se sono cose che effettivamente hanno un'applicabilità ma di questo ne parliamo quando tornate riposati e festeggiati auguri e buone feste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti